Come direttore generale di AIFA volevo comunicare alcune decisioni prese negli ultimi giorni che mirano a accelerare e semplificare l'accesso ai farmaci sperimentali e in generale a tutte le terapie disponibili per combattere il coronavirus. Uscirà a breve il decreto Cura Italia nel quale saranno chiaramente espresse alcune volontà di centralizzazione dei percorsi di approvazione degli studi. AIFA avrà maggiore autorità nella sua commissione tecnico-scientifica per decidere di tutte le sperimentazioni e le proposte di sperimentazioni che sono arrivate e che arriveranno nei prossimi giorni per poi trasmettere alla commissione tecnica-scientifica presso la protezione civile gli studi che saranno approvati. È importante per accelerare dire anche che sarà contenuta una norma di semplificazione dell'emissione dei pareri dei comitati etici avendo un solo comitato etico nazionale per esprimere tale parere presso l'ospedale Spallanzani. Giovedì scorso abbiamo approvato la prima sperimentazione clinica con un nuovo antivirale. I giornali gli hanno dato notizia che è Remdesivir con due studi sperimentali cioè randomizzati e comparativi e anche un uso compassionevole del farmaco. Questo protocollo è già attivo. Oggi annunciamo, c'era molta attesa perché i giornali gli hanno parlato molto anche in termini di forse eccessiva generazione di alte aspettative su questo farmaco come un farmaco già studiato. Il farmaco è il Tocilizumab che è un farmaco già approvato per la tritereumatoide su cui ci sono dati preliminari promettenti. Si è impostato un ampio studio di fase 2 per valutare l'efficacia e la sicurezza su 330 pazienti. Lo studio partirà giovedì prossimo e ha lo scopo di rapidamente valutare il possibile impatto del farmaco. Associato a questo si è decisa una centralizzazione e raccolta dati di tutti i pazienti trattati sia già precedentemente trattati sia quelli trattati per usi compassionevoli o allargati. Questo consentirà in poche settimane di avere un dato più chiaro sulla possibile entità del beneficio e anche la quantificazione del beneficio che è ciò che ci interessa maggiormente.